Equilibrio, pare essere questa la parola chiave per interpretare l'orientamento politico dei toscani in vista delle elezioni regionali del 2020. Un sondaggio commissionato dalla regione alla società Ghialmedia dipinge infatti un granducato diviso a metà tra centrodestra e centrosinistra, due poli della stessa forza. Il centrosinistra raccoglierebbe al momento poco più del 42 per cento delle preferenze, talonato a un'incollatura dal centrodestra, mentre i 5 stelle si attesterebbero attorno al 10 per cento dei voti. Io commento sempre malvolentieri i sondaggi perché ci hanno abituato anche a delle clamorose smentite. In realtà se lo guardiamo attentamente rispetto ad un sondaggio un po' più reale, quello delle elezioni europee che si sono celebrate soltanto qualche settimana fa, avremo in un mese addirittura già migliorato. Se questo fosse il trend potremmo guardare avanti alle elezioni regionali con grande ottimismo. In realtà non dobbiamo essere così ottimisti, sappiamo e dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà. È un sondaggio veritiero, già il voto alle elezioni europee, le sigle del centrodestra unito rappresentano il 42,2 per cento. Secondo me è un po' troppo alto il centro-sinistra, il PD al 33%, non vedo una coalizione del PD con un'altra sigla che rappresenta il 7-8%. La sinistra sicuramente non sarà tutta unita, è vero siamo in vantaggio, è un risultato comunque tutto da costruire, la campagna elettorale deve ancora iniziare, però siamo orgogliosi che per la prima volta abbiamo i numeri per vincere e governare la Toscana. Ma intanto vedremo in tutto questo anno che cosa succederà, noi chiediamo molto sul lavoro nel territorio, a fianco delle imprese, dei lavoratori del terzo settore, non abbiamo mai smesso di farlo e questo penso che porterà anche a un risultato importante in termini elettorali. Quindi i sondaggi hanno un po' il tempo che trovano, oggi l'opinione pubblica si può orientare in un modo e fra qualche mese in un altro. Ricordiamoci che anche le regionali saranno a partita tre, è molto sottovalutato il Movimento 5 Stelle in questa fase ma sarà la vera sorpresa delle elezioni del 2020.